Domani abbiamo convocato il Presidente Mauriello affinché si possa trovare un punto d'incontro. Tengo a precisare che la posizione dell'amministrazione è quella di salvaguardare tutto quello che riguarda il mondo sportivo, soprattutto in un periodo così difficile. È giusto anche che il patrimonio comunale venga messo a reddito e chi c'è dentro paghi l'utilizzo, e chi usufruisce paghi le strutture, quindi per questo motivo noi domani andiamo a incontrare la società in vista di questa pendenza. Così parlava Stefano Luongo, l'assessore al patrimonio del Comune di Avellino, due anni fa, quando la società Biancoverde era in mano a De Cesare e i conti per lo stadio Partenio come sempre non tornavano. A due anni di distanza la situazione non è cambiata, di canoni il Comune ne ha visti ben pochi e questa volta a sollevare la questione sia in Commissione Trasparenza che ai magistrati è stato il leader di La Svolta, Dino Preziosi. In Soldoni lo stadio Partenio ad oggi non frutta quanto dovrebbe alle casse del Comune di Avellino per una duplice ragione. Da due anni ormai la squadra Biancoverde utilizza lo stadio senza una convenzione che ne lega l'illuso. Inoltre, secondo quanto accertato dal settore finanze, il Comune perderebbe da almeno dieci anni importi milionari per tasse e canoni di locazione. La convenzione nella fattispecie non sarebbe stata fatta perché le morosità impediscono di stringere un nuovo accordo. Dalla sua ad Agostino asserisce di aver fatto dei lavori e dunque di dover scomputare quanto investito dalla cifra richiesta, minacciando addirittura un contenzioso legale con il Comune. Anche su questa vicenda però Preziosi è pronto ad intervenire, spiegando come lo scomputo sia stato escluso proprio dal dirigente al settore finanze. Al momento dunque l'Avellino utilizza lo stadio con una licenza d'uso che dovrebbe riguardare però solo le partite. Poca cosa se si pensa che nel mezzo ci sono già allenamenti quotidiani di prima squadra e primavera. Ma va precisato che la società può chiedere uno sconto sui canoni relativi agli anni della pandemia, quando la capienza era ridotta. Una storia che si ripete da Taccone a Mauriello, passando per D'Agostino, la questione è sempre la stessa. Il Comune non riesce a monetizzare dallo stadio Partenio. Una situazione da chiarire, soprattutto perché all'orizzonte c'è un campionato che sta per cominciare.